Ancora un episodio violento nelle notti a retine. Ieri sera intorno alle 23 uno straniero non regolare, senza fissa dimora e pregiudicato, è stato gravemente ferito con un'arma da taglio, presumibilmente un coltello, che non è ancora stato ritrovato. È stato lui stesso ad allertare i soccorsi, ha chiamato il 118 chiedendo aiuto da una panchina alla fermata dell'autobus zona E di indicatore. Il 118 lo ha trasferito rapidamente al pronto soccorso con ferite superficiali agli arti al collo e ferite più gravi all'addome che hanno richiesto un'operazione. Gli agenti della squadra mobile guidati da Sergio Leo non hanno potuto parlare con lui, passaggio previsto per la giornata di oggi. L'uomo, trentenne di origini africane con precedenti per droga, è stato anche condannato nel merito dell'operazione Duomo Vecchio, una trentina di arresti nel 2019, zona pionta per spaccio. Insomma, una vecchia conoscenza che ultimamente però era sparita dai radar della questura retina. Cosa ci faceva dunque nella normalmente tranquilla indicatore? E che cosa gli è successo ieri sera? Le indagini sono in corso.